allora questo gioco purtroppo si è bloccata la registrazione e ho perso tutto purtroppo quindi ora brevemente vi faccio vedere un po come questo gioco allora facciamo sempre modificare come nel vecchio il colore del parabrezza delle gambe strisce dei cerchi più che più che delle gomme i numeri se uno vuole mettere dei numeri vernice poi queste cose sono molto interessanti perché penso che sono delle protezioni quando uno sbatte poi vabbè i galettoni solite cose upgrade del motore i freni e le gomme e niente e il roll bar ecco ok allora io direi quindi di provare intanto da solo così a farlo in giro poi in futuro metteranno alla campagna il multiplayer l'ho provato però è stato un miracolo che ho trovato una persona io direi anzi di fare quick play e di fare racing per cinque giri io farei questo qua questo qua vediamo ecco sempre la pubblicità Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.